e io bello a tutti ragazzi guardate cosa c'è qua sono arrivato il negozio il mio collega mi ha consegnato questo adesso andiamo a casa e lo apriamo cosa ci sarà ciao 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 cazzo me ne frega a me la gente saluta io devo andare a aprire i dischi ti è arrivato un disco prez tiè tiè hey yo oh ma con la sedia oh cioè dove ti porta buonasera raga come va che si dice da quelle parti e niente avete visto che è arrivato finalmente è arrivato il vinile che stavo aspettando è uscito il 14 di questo mese finalmente sta roba qua è arrivata c'è porca miseria un disco che finalmente hanno hanno stampato in vinile perché c'era solo il cd ed è stato ristampato finalmente in vinile con 650 copie edizione limitata colore bianco milky una cosa del genere se non ricordo male si chiama comunque un bianco trasparente milky contro milky stessi cazzo di nome un bianco trasparente comunque a parte quello ce l'ho fatta apprenderlo e finalmente oggi è arrivato oggi ci pensavo dicevo ma sto vinile deve arrivare il vinile che lo stanno consegnando in bici il corriere in bici è partito e niente oggi è arrivato il negozio e mio collega mi ha detto guarda che è arrivato un pacco per te ed ero contentissimo quando mi arrivano i vinili io sono sempre super contento quindi apriamo sta bella picca insieme madone siete emozionati un po' io si ci siamo eh ti ringraziano per vedi aver acquistato da loro sul parco eccetera eccetera madonna voglio c'è c'è il vinile c'è in giappone è bello pesante non è che c'è un blocco ma hanno fatto veramente un pacco ci vedete c'è un blocco di un mattone e io caos karma finalmente porca miseria finalmente raga hanno ristampato caos karma in vinile c'era solo il cd un album uscito nel 2007 bellissimo disco e finalmente abbiamo il vinile spero che molti di voi l'abbiano comprato l'abbiano preso perché comunque erano 650 copie se non erro colorate il resto nere comunque nero bianca io come sapete se sono feticista del vinile quindi iniziamo un po' più limitate eccetera 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 devo averlo ed eccolo qua caos karma ma quindi che devo fare? devo aprire questo vinile? raga dovete sapere che io con quei vinili c'è c'ho una malattia cioè io difficilmente li apro cioè nel senso se c'ho abbastanza soldi sono incapace che piglio pure la doppia copia una la apro me l'ascolto e l'altra la tengo sigillata ma è proprio una mia malattia cioè non è che per rivenderle fanno d'altro cioè eh apriamolo vai comunque aspetta che prima me lo faccio vedere da vicino chi è? eh? che bomba e niente vogliamo tutti ste paranoie apriamole non se ne parla più dai neanche ce l'abbiamo fatta eh? due per lp gatefold che bomba davvero figo eh nera black e pare che quello si che è purato però dai c'è anche il il cielo fanno qua all'interno vedi? per proteggerlo meglio anche qua vedi? e questo è il colore pare macchiato con questo bianco trasparente milky milky white una cosa del genere così l'hanno descritto siete contenti spero di questo uscito o no? che secondo me in tanti di voi aspettavano come me cazzo c'è qualche sticker qualcosa non ci mettete niente in questi parti c'è più mille euro non ce li mettete mai niente macchè vediamo che c'è su cazzo questo va bene che solito adesivo comunque questo no davanti ai futtani dove lo mettiamo? mettiamo e a questo punto della situazione io penso che con la collezione sono a buon punto che cazzo manca adesso di caos in vinile post scritta mi sa una cosa del genere ora vi faccio vedere gli altri che vado a recuperare gli altri i miei che c'è in vinile di caos e sono a buon punto della collezione aspetta che li recupero li vado a pigliare ecco qua ce l'ho fatta siamo a questo punto con caos qua da me da dirty black bits c'è l'attesa doppio vinile questa è la prima stampa logicamente non l'hanno ristampato e c'è la prima stampa per fortuna l'attesa poi c'è fastidio anche questo questo è sigillato perché c'è più più di una copia sempre tornando nel discorso della mia malattia questo è il doppio vinile dorato color oro fastidio e poi c'è cap de grace vabbè questo qui e mo c'è karma oh c'è insomma karma arrivato fresco fresco oggi nel mio studio bisogna che ci mettiamo la busta pure a questo se no si rovina bellissimo vabbè prima ve lo faccio ve lo faccio sentire ve lo metto sui giradischi un attimo anche se vi faccio sentire pochissimo che se no poi youtube blocca tutto cioè non so che cazzo fare mi vengono a bloccare il vinile a me se no poi youtube insomma blocca tutto per copyright e quant'altro quindi lo metto sui giradischi vi faccio sentire un attimo e poi vabbè vi metto il link anche del disco ma penso che comunque chiunque chiunque in italia che ascolta rap conosce caos insomma se no veramente che cazzo stai a fare rap cioè fai pure rascolti pure rap non ascoltarlo proprio comunque vabbè io sull'italiano c'è tutta la mia scelta non vi credetela io non ascolto di tutto anzi io preferisco il rap americano in molti video sono un rap americano anche se c'ho prime stambe di italiano insomma le cose stambe storiche insomma quello però ce ne ho insomma però preferisco ascoltare altre anche se avrei la mia da dire sul rap italiano comunque questa è l'altra faccenda che se ne parla un'altra volta magari o no fai tu che dici magari ve ne parlano di frida che ne sa caos calmo ho aperto sto venire insieme a voi adesso ve lo faccio vedere sui sui niggi che stai parlando poi sta prospettando il tuo rapper preferito però è praticato che ci non è stato e che da chi ne sei non c'è un trofevole nel regno degli anoni e te l'anno domini del dio dell'anno e tono e perché s'è un fenomeno in questione più debole dei domini che pop e la nazione dirty blade beats